Il cuore della nostra sfida è ancora il lavoro. Ha fatto bene Matteo ieri a rimettere al centro della nostra iniziativa innanzitutto la questione del lavoro, soprattutto quando incrocia la questione generazionale, soprattutto quando hai di fronte il tema degli esclusi e degli inclusi, dei garantiti e dei non garantiti. Io credo che le scelte di questi anni abbiano invertito la rotta, ma non abbiamo ancora vinto la sfida. Noi siamo passati dalle tutele formali, spesso inefficaci, alle tutele sostanziali allargando la platea dell'inclusione e della protezione, ma non abbiamo ancora vinto la partita. E' questa l'unica risposta che possiamo dare come PD ai cittadini? Certamente no, dobbiamo fare ancora molto. Certo, forse abbiamo sbagliato anche noi a dare l'idea che con queste scelte l'operazione fosse compiuta. E allora dobbiamo metterci ancora in moto, cercare nuovi strumenti. Sono stati avanzati qui alcuni progetti, alcune proposte, anche da parte di chi mi ha preceduto. Io credo che su questo noi dobbiamo andare avanti. Il tema della difesa e della promozione del lavoro ci riguarda ancora perché esiste ancora. Io penso ci sia bisogno davvero di una nuova stagione dei diritti nel lavoro.